In questo momento l'innovazione è qualcosa che si fonda su un pensiero nuovo rispetto allo sviluppo del mercato. Siamo figli di un periodo in cui la finanza ha prevalso, in cui c'è stata una forte centralità dell'aspetto di pianificazione finanziaria. Quello che noi invece abbiamo riscoperto è la centralità dell'aspetto economico, la centralità quindi di un momento innovativo che si fonda sul valore vero dei prodotti e dei servizi che vengono portati sul mercato. Per far questo recuperare una serie di competenze che vanno da quelle manifatturiere a quelle della creatività e del design è fondamentale per il nostro territorio. Lo si può fare sia organizzando una formazione adeguata, sia dando gli strumenti agli imprenditori, sia quelli già sul mercato, sia quelli che invece si stanno approcciando oggi con le nuove start-up, gli strumenti che appunto riescono ad accompagnarli nel modo migliore ad affrontare il mercato. In questo senso le start-up ma anche tutti i temi legati al futuro artigiano, legati al design thinking sono fondamentali e possono essere veramente il modo in cui il valore che sta nel nostro territorio, il valore che abbiamo saputo sviluppare nei decenni precedenti e che negli ultimi anni invece ha avuto qualche difficoltà può ritrovare una sua centralità e una sua capacità di conquistare i mercati sia interni sia esteri. Per fare l'innovazione serve un approccio differente di quello che normalmente le aziende sono abituate ad utilizzare. Un approccio basato sull'accettazione che l'errore e la capacità di imparare sono parte del percorso e che quindi il punto di arrivo non necessariamente sarà così facile, così imprevedibile come la produzione è abituale. I concetti come efficienza probabilmente devono essere sacrificati a fronte invece di concetti come quello dell'efficacia e della capacità di comprendere cosa effettivamente vuole il pubblico, il mercato. È un mercato che sta diventando sempre più grande, globale e quindi anche culturalmente diverso da quello che eravamo abituati ad affrontare. Per tutto questo ci sono adesso delle metodologie snelle che consentono di affrontare questo percorso in modo efficiente aumentando la probabilità di successo alla propria iniziativa.